Ehi, Bobby! Bobby e Broderick! Wow! Sono Audrey, della scuola. Sono così contenta di vedervi qua. Nessuna fichetta ci ha mai detto così. Questo è un miracolo. Ho notato che voi due parlate di sesso di continuo e che non pensate ad altro, e che questo vi impedisce di studiare e di farvi altri amici. Proprio così, piccola. Io credo che quello che facciamo qui potrebbe aiutarvi a vivere la vostra vita al meglio. Esatto. Un attimo. So cosa sta succedendo. Volete aiutarci a fare centro? A me ha aiutato a fare centro a scuola, se è quello che intendi. Entrate, sarà divertente. Lo faremo! Wow! Alleluia! Benvenuti al gruppo sull'astinenza. Audrey, puoi presentarci i tuoi compagni? Pastore Travis, Bobby e Broderick sono desiderosi di sapere di più sull'astinenza. Desiderosi di sapere e desiderosi di fare. Sì, sì, sì. Astinenza sessuale. Già, già, Fico. Vedete, la cultura e i media ci dicono un sacco di bugie sul sesso, no? Per questo qui facciamo sul serio. Sì, sì, esatto. Facciamolo sul serio. Facciamolo, va! Ma certo, sì, ci arriveremo. Perché non ascoltiamo qualcuno prima? Chi se la sente di parlare? Io avevo un po' di paura dell'astinenza all'inizio. Non ero sicura di farcela. Siamo qui per aiutarti. Oh, grazie. Ma adesso ho tanta gioia da dare. E vai, sì, sì. Dai, dammela, dammi la gioia. Con gioia. Già, grazie all'astinenza. Ora conosco davvero le persone nell'intimo. Sì, 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 nell'intimo. E la parte migliore è che non siete soli. Lo faremo noi insieme a voi. È quello il punto, cogliona. Tutti noi insieme. Sì, 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 sì. Tutti insieme, sì, sì, sì. Tutti, tutti eccetto lui. Tutti insieme, sì. Insieme. È un'ottima idea. E come faremo? Siete pronti? Siete pronti a dominare tutti i vostri bisogni e desideri sessuali e a sentirvi appagati davvero? Possiamo farlo subito, signore? Sì, sì, sì. Facciamolo subito, sì. Voi potete scegliere l'astinenza già adesso. Sì. Che cosa aspettiamo? Amico. Dai, facciamolo. L'astinenza sessuale. Ehi, rilassati, bello. Ma scusa. Amico, scendi. Che cosa fai? Vieni giù da lì. Oh! Oh, santo cielo. Dove sono? Sto facendo sesso. Oh, sono morto. Che c***o succede? Qualcuno mi risponda? Per favore, chiunque! La risposta si trova in un'esortazione apostolica di Papa Paolo VI chiamata Perfetta Ecaritatis. Ti ho già detto che Tony Stark ha inventato il reattore ARC? Sì, sì, sì. L'ha già detto. Rabbino, avevo già inventato il reattore ARC. In Afghanistan l'ho trasformato in un dispositivo più piccolo. Oh, cerchi il pelo nell'uovo. Adesso basta! Qualcuno può dirmi che... che cosa succede? Sto c***o, oppure no. Oppure l'ho appena fatto. No! Non lo stai facendo, figlio mio. E non lo farai mai. Sicuramente no, certo. Wow, Gesù ha proprio ragione. È vero, non lo farai mai. Già, che c***o. Questo lo prendo io. È ancora buono. Già, che c***o.